Su Rai 2, la forza sarà ancora con voi. Qualcosa, ragazzi? Dal genio di George Lucas, Guerre Stellari. La forza è con selby. La minaccia fantasma. Tu sei un cavaliere Jedi, vero? Cosa te lo fa pensare? Solo i Jedi portano quel titoliano. E lui ti ha scelto. Ogni epopea. Sei uno strano bambino. Ha un inizio. Affidarci a un bambino che conosciamo appena. È il suo destino. Questi vanno! Vede le cose prima che succedano. È una prerogativa dei Jedi. Guerre Stellari, la minaccia fantasma. Che la forza sia con te. Tutto iniziò così. Giovedì alle 21. Rai 2.